Varia isola nel mondo sono cristiani o credenti in questo Dio di Abramo. Quindi Dio non ha, non ha dempito con sua promessa? Non ha dempito, no? Quindi, cari fratelli e sorelli, quando noi ascoltiamo la voce del Signore, oggi Dio non parla come parlò Abramo, perché Dio parla di varie formi, per metodo di un himno, per metodo della lettura della Bibbia, per metodo di un amico, Dio di varie formi parlare a nostro cuore. E noi debiamo dare ascolti a sua voce. Se noi seguiamo il esempio di Abramo, noi saremo felici come lui è felice. E lui dava testemunio di sua fede. Anche abitando in Canaà, è un paese antipoliteista, però lui solo dava testemunio che credeva in Dio eterno. O che Dio benedica a ogni uno di noi, per che possiamo avere la fede di Abramo. Amin. Amin.